Dopo essere uscita dalla casa del grande fratello Vip, la showgirl Antonella Elia ha deciso di trascorrere la sua quarantena con il fidanzato Pietro delle Piane. La relazione tra i due va a gonfie vele e i piccioncini si divertono a postare in continuazione foto e video insieme su tutti i social. Il fidanzato dell'ex GFina ha fatto qualche confessione piccante durante un'intervista rilasciata al settimanale nuovo, ovviamente i fan della coppia non aspettavano altro. E, come se tra noi fosse tutto, tra Antonella Elia e Pietro delle Piane va tutto alla grande, complice il tempo passato lontani, ora la coppia non può far a meno di stare sempre insieme. Il fidanzato della showgirl tuttavia ha voluto raccontare qualche dettaglio in più sulla loro relazione, senza mettere da parte le curiosità a luci rosse. Ecco cosa ha dichiarato l'uomo durante l'intervista. Tra di noi va tutto bene, è come se la nostra storia fosse ricominciata da capo. La notte di passione che mi aspettavo non c'è stata. Ma abbiamo dormito nello stesso letto e chiacchierato sino alle 7 di mattina tenendoci per mano. Dicendoci quel che non abbiamo potuto dirci negli ultimi mesi. Insomma, la tanto chiacchierata notte di passione che avrebbe dovuto esserci tra i due dopo la fine del GF VIP non c'è stata. Probabilmente infatti la coppia era così contenta di essere nuovamente insieme che ha preferito restare a chiacchierare e coccolarsi tutto il tempo. Il fidanzato della Elia ha comunque aggiunto di aver conservato il barattolo di miele anche su quest'ultimo c'erano state parecchie discussioni per poterlo spalmare sul corpo della sua amata. Grazie!